Quello che io desidero per i servizi 0-6 anni dipende da quello che io vedo nei servizi dei più grandi. Vedo una grande difficoltà nello stare insieme, nel vivere il gruppo come risorsa. Mi piacerebbe che nei servizi 0-6 anni si lavorasse molto sulla relazione, sullo stare insieme, sulla valorizzazione delle differenze, perché mi sembra che in questo gruppo di servizi ci sia veramente il tempo per farlo e le modalità giuste per affrontare questo argomento, che spesso poi quando i bambini diventano più grandi, vanno in scuole elementari e medie, è più difficile, diventa veramente un momento di difficoltà per parte dei bambini.